E' stata celebrata ieri anche a Gela la giornata nazionale delle cure palliative. L'hospice del Vittorio Emanuele, diretto da Giampaolo Alario, ha promosso un'iniziativa con la collaborazione della Soloptimist, presenti le associazioni di volontariato e le scuole locali. Abbiamo voluto dare un segnale per essere presenti appunto nel territorio in questa giornata. Una giornata di San Martino perché San Martino è il protettore delle cure palliative, col suo mantello avvolge i malati, il sofferente quando ne ha bisogno. Noi lo facciamo tutti i giorni avvolgendo nel nostro mantello i malati e soprattutto le famiglie. Per la seconda volta siamo stati insieme con l'hospice, con il dottore Alario e tutti gli altri medici e tutto il personale. molto contenti di essere qui presenti perché siamo molto vicini a questa bellissima struttura perché veramente abbiamo toccato con mano quello che qua dentro si fa come l'umanità e a parte la professionalità di questi medici che operano per noi, per la nostra salute e per salvaguardarci. Le cure palliative si rivolgono a pazienti in fase avanzata di malattia e a Gela, città d'alto rischio ambientale, la necessità è elevata. Ogni anno il centro ricovera circa 200 pazienti. Alla manifestazione hanno partecipato ieri anche i maestri Francesco Falci e il tenore internullo che hanno eseguito brani musicali per i pazienti ricoverati. Finalmente le istituzioni che operano nel territorio non sono isole ma si integrano e si conoscono a vicenda proprio perché le conoscenze di queste realtà possono apportare dei sostanziali miglioramenti agli interventi che si intendono fare. Io credo che questa iniziativa sia il segno di una grande sensibilità che la città attraverso varie componenti culturali vuole mostrare nei confronti di un reparto che da quando è stato istituito presso l'ospedale Vittorio Melone di Gela e ha costituito un punto di riferimento per coloro che una volta si chiamavano malati terminali ma che in realtà sono persone che hanno bisogno di grande sensibilità e di cure molto particolari. L'ospedale è un'opportunità per il nostro territorio incredibile, meravigliosa, che accompagna il malato a livello umano nel momento più difficile penso per ognuno della nostra vita e quindi siamo tutti pronti, disponibili, aperti a sorreggerlo, a portarlo a conoscenza di tutto il territorio.